Secondo me anche stanotte è stato qua perché l'avevo sentito, ho sentito rumori strani. Che tipo di rumori? Come sbattere qualcosa dal vetro sopra. Può essere di sassi, sì, che mi ha lanciato la camera da letto. L'avevo sentito, dopo mi sono svegliata, ho guardato la telecamera e come se la telecamera non c'era niente, mi sono addormentata, mi sono svegliata ancora. Nel terrore? Esatto. È ancora impaurita Eva, nome di fantasia, anche se il suo incubo quotidiano sembra finito con l'arresto di Daniel Ionut Niculea, rumeno di 36 anni, su cui pende un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso. Gli agenti della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto lo hanno scovato di prima mattina nell'appartamento di una coppia di connazionali nella cintura urbana del capoluogo. Un anno d'inferno, quello vissuto dalla donna, barista in centro e mamma di una bambina di pochi anni. Siamo lasciati, gli ho detto che non voglio più e lui non l'ha mai accettata. E quindi gli ha cominciato con che cosa? Minacce? Si presentava sotto casa mia, all'asilo di mia figlia, al lavoro, dappertutto. Quindi ti insultava, ti minacciava anche di morte? Sì, sì, che mi ammazza, sì. Ti ha scritto che ti ammazza? Sì, sì, mi ha scritto, ho scritto 200, da tanti numeri diversi. 200 messaggi in un giorno? Sì, esatto. Le ho chiamate, ho dovuto cambiare numero, chiudermi tutti i Facebook, tutto, solo per non disturbarmi, per dormire. Eva torna con la mente anche alla notte del 15 febbraio scorso, quando la sua Citroen C3 prese fuoco, proprio sotto casa, sul retro del condominio dove abita. Poco distante, in un casolare, gli agenti trovarono una tannica di benzina e un coltello. Un fatto inquietante l'ennesimo che ha ulteriormente accelerato l'attività investigativa con il coordinamento della procura. Tutti i contatti dell'uomo sono stati setacciati. Una partita a scacchi finita poco dopo l'alba. Eva ringrazia tutti, ma confida di non essere ancora tranquilla. Sì, per quello che hanno fatto da quest'ora, sì. Che l'hanno preso, sì. Però c'è ancora che l'hanno trovato vicino a casa, a 5 km, sono ancora preoccupata. Non sia che i suoi amici può essere qua. Cosa ti senti di dire alle donne che sono nella tua stessa condizione? Di stare attente, di non fare stesso errore che l'ho fatta io. Conoscere un uomo sui social. Lui come si presentava sui social? Aveva la ditta. Invece non era così. Tutto diverso da quello che ha detto. Non aveva un lavoro? No, niente. Niculea si trova ora in carcere a Santa Bona, formalmente indagato per stalking e danneggiamenti.